buongiorno nel giorno in cui facciamo memoria liturgica dei martiri coreani il vangelo di luca continua nel capitolo 21 a porci davanti ai grandi temi della fine del mondo delle visioni apocalittiche millenarie del linguaggio meglio che gesù utilizza nel parlare i discepoli per farsi capire circa le cose ultime una maniera che il signore ha di essere profondamente ancorato alle domande profonde che stanno dentro il cuore di ciascuno ai timori alle paure e a mostrare l'orizzonte della speranza da un punto di vista esegetico il brano di oggi parla della caduta di gerusalemme e probabilmente dicono gli esperti luca lo scrive dopo che questa è accaduta quindi mette nella bocca di gesù delle parole profetiche che in realtà descrivono e rileggono quanto è già accaduto ma l'importante è rendersi conto che in realtà se sia caduto no gerusalemme tutti dobbiamo comunque fare i conti con l'esperienza di una precarietà di questa vita a volte segnata anche da drammi terribili come le carestie le calamità naturali ma pure la guerra che continua tremenda a essere anche davanti ai nostri occhi quanto dolore quanta sofferenza è capace di generare l'uomo e dentro questa tragedia quanto ci riscopriamo limitati e poveri destinati in fondo a una vita breve perché su questa terra questo accade bene gesù allora non fa altro che prendere sul serio quella che è la realtà e quello che può essere il sentimento di angoscia e di paura che attanaglia l'anima delle persone quando il fronte ha tanta fatica ci si accorge di non avere risposte di non avere forze per affrontarla l'ultimo versetto del vangelo di oggi allora diventa la vera prospettiva da cui porsi perché gesù dice che quando accade tutto questo il figlio dell'uomo viene e allora noi possiamo risollevare alzare il capo perché la nostra liberazione è vicina questo risollevare alzare il capo diventa un comandamento per gesù è un modo per dirci con vigore e decisione non abbiate paura perché se questo è il momento in cui viene il figlio dell'uomo allora questa è una buona notizia non dobbiamo avere paura perché dentro i drammi e soprattutto dentro i limiti dei confini della nostra esistenza è penetrata la potenza del risorto perché è stato lui morto sulla croce il primo a risollevarsi alzare il capo e a mostrarci che la vita è più forte della morte la liberazione che è vicina e la liberazione da la prigione del peccato e ci fa credere che la morte sia l'ultima parola su questa nostra esistenza la liberazione è la promessa che si compie noi siamo fatti per vivere per sempre e questo accadrà veramente buona giornata